Ciao a tutti, sono Margherita e in questo video andremo a parlare della vita davanti a sé un film che è appena uscito su Netflix e che vede il ritorno sul grande schermo della grande Sophia Loren che dopo dieci anni decide finalmente di ritornare sugli schermi questo finisce già facendo molto parlare di sé, ma in positivo o in negativo? e adesso lo andremo a scoprire questa recensione sarà divisa in due parti la prima parte senza spoiler così tutti la potrete vedere e decidere poi se andare a vedere o meno il film e poi la seconda parte in cui ci sarà uno spoiler quindi magari lo consiglio per chi ha già visto il film o per i più temerari che non hanno paura degli spoiler o per persone tipo mia mamma che invece non riescono a vedere un film se non sanno prima la trama sì, ci sono anche quelle persone dunque, la vita davanti a sé è un film che è uscito il 13 novembre sulla piattaforma di Netflix diretto da Edoardo Punti, figlio della Loren è tratto dall'omonimo libro francese di Romain Garry, La Vie de Bonsoir che era stato già trasposto cinematograficamente nel 1977 il film del 2020 di Punti invece trasporta i nostri personaggi da un avaglio francese alla Bari di oggi il protagonista della storia è Mohamed, detto Mumo questo bambino di 12 anni circa, senegalese, che si è trasferito in Italia da molto piccolo e vive senza i genitori da questo medico che ha questa specie di casa casa famiglia, diciamo, dove tiene diversi ragazzi con situazioni problematiche, eccetera, eccetera il problema è che Mumo è un ragazzo molto, diciamo, molto birichino, diciamo così nel senso che, come molti ragazzi che devono affrontare queste situazioni pesanti fa un sacco di marachelle, ha un carattere irreverente nel suo caso particolare fa anche un po' il ladruncolo infatti vediamo nella prima scena a rubare al mercato dei candelabri che è una vecchia signora, insomma, comincia a dare un po' delle grani a questo medico che cerca di trovargli un'altra sistemazione e per aiutarlo contatta questa sua conoscente barra paziente che è questa signora che si chiama Madame Rosat Madame Rosat è la nostra Sophia Loren, che come personaggio è una vecchia signora sopravvissuta all'olocausto, quindi una vecchia signora ebrea che poi tornata in patria ha fatto la prostituta e al momento tiene praticamente i figli delle prostitute che non possono tenere con loro durante il giorno perché magari appunto fanno vita notturna quindi non riescono a tenere i figli, eccetera, eccetera e niente, praticamente questa signora poi si scopre essere la stessa a cui Mumo aveva rubato i candelabri quindi c'è un inizio, insomma, un po' scontroso tra i due però appunto Mumo viene affidato alle cure di questa signora che, insomma, visto quello che ha passato ha un carattere molto duro è poco espansiva, ecco, una tempra molto forte forse è proprio per questo che il medico decide di affidare Mumo proprio alle sue cure la storia parla poi del rapporto tra questi due personaggi sostanzialmente quindi tra Mumo, un bambino di soli dieci anni e invece questa vecchia signora che ha affrontato tanto nella propria vita e quindi forse è proprio lei che può far capire a Mumo quanto sia importante vivere quanto sia importante essere sulla buona strada, no? e due quindi, nonostante questo inizio un po' a discontro in realtà poi i matumorano un rapporto di, insomma, di confidenza e di reciproca solidarietà che andranno poi appunto a creare la conclusione del film ora, è un film che vale la pena vedere? purtroppo per me, no la storia in sé potrebbe anche essere interessante però il modo in cui viene trattata il modo in cui fanno agire i personaggi gli dà un non so che di già visto di vecchio è uno di quei classici film dove per tutto il tempo non sai se mandare avanti il cursore e già dai primi dieci minuti del film sai benissimo dove vuole andare a parare e quale sarà la conclusione sempre voler essere un dramma, no? su... sulla psiche di questi personaggi su quello che hanno vissuto, eccetera ma la verità è che in realtà è trattato molto superficialmente cioè tutti questi drammi sembrano trattati molto superficialmente e i personaggi hanno questi cambi che non derivano davvero da un effettivo processo di maturazione, no? sembrano fatti così, a caso cioè repentini senza un qualcosa che li abbia veramente sviluppati, no? senza che questi personaggi abbiano veramente sviluppato queste maturazioni interiori cioè da un momento all'altro cambiano radicalmente sembra un po' una favoletta cioè una bella favoletta ai giorni nostri vista e raccontata da un buonario nonno che trova del bello, della felicità in ogni cosa e ha quasi una visione patinata del tutto perché anche l'idea che un bambino possa ragionare in modo così chiaro così razionale è un po' una fantasia perché i bambini non sono così i bambini soprattutto ai 12 anni hanno un modo di ragionare di vedere le cose molto diverse soprattutto in una situazione così difficile come può essere quella in cui si trova Momo purtroppo il film non mi è piaciuto tanto potevano sicuramente fare qualcosa di più la Loren è fantastica assolutamente c'è da tutto di sé in questo film nonostante le sue battute in realtà non siano neanche così tante ma ha questa presenza assurda questa presenza sembra onnipresente in questo film cioè che poi lei non fa neanche tutte queste azioni in realtà gli ambienti in cui la vediamo sono di solito solamente la casa e qualche volta fuori ma veramente due volte in croce ma c'è sempre cioè lei è veramente fantastica però purtroppo non riesce a salvare il film parlando della Loren in realtà l'unica cosa che mi è piaciuta veramente è il cast cioè il cast megoglioni veramente bravissimi bravissimi dal primo all'ultimo cioè non ce n'è uno che non mi sia piaciuto la Loren vabbè ne abbiamo già parlato a non finire bravissima un'espressività assurda cioè nonostante appunto non abbia così tante battute significative lei ti dice tutto capito ti dice tutto con il viso con lo sguardo è pazzesca cioè è bravissima sembra non sembra che avesse smesso di recitare già da più di dieci anni sembra veramente che il suo ultimo film l'avesse fatto l'altro ieri super brava donna proprio cioè è nata per recitare non saprei come altro dirlo inoltre in questo ruolo mi è piaciuta molto anche perché secondo me cioè la Loren che cos'è per noi l'abbiamo vista nei panni della magliatrice donna seducente però forse prima di tutto è quasi mamma e quindi questa Madame Rosat questo personaggio che diventa un po' la mamma di Momo un po' la mamma di questi bambini è forse veramente il più azzeccato per lei e i pretesti quindi c'erano tutti per questo film camera altro super interprete il ragazzo che fa Momo Ibrahim Agweye spero si pronunci così bravo molto bravo anche lui ha dato tanto in questo film era la sua prima volta sullo schermo e se l'ha portato a casa alla grande direi questo film veramente bravo un altro personaggio che mi è piaciuto molto è quello della prostituta transessuale Lola interpretata da Abril Zamora che tra l'altro ha letto è anche la sceneggiatrice di Elite la serie spagnola e sta recitando attualmente anche in Vis a Vis che è un'altra serie abbastanza conosciuta su Netflix anche lei veramente brava una recitazione molto naturale mi è piaciuta molto ma appunto come detto prima in realtà anche se non li cito bravi tutti nel cast veramente bravi dai bambini agli adulti il negoziante i tappeti molto bravi purtroppo però il terreno era poco fertile di suo e quindi e quindi insomma non hanno potuto fare molto perfetto da qui in poi ci saranno spoiler a GoGo quindi se non l'avete ancora visto lo volete vedere non volete sapere gli spoiler fermateli qua e invece con gli altri andiamo avanti dunque una delle cose che non mi è piaciuta di questo film e che secondo me è una sua grossa pecca è la forzatura di far entrare determinate cose determinati argomenti per esempio come abbiamo già detto Madame Rosat è una sopravvissuta dell'olocausto no? e l'autore voleva quindi creare una sorta di parallelismo tra le deportazioni naziste dell'epoca dell'olocausto con la situazione invece degli immigrati clandestini in Italia oggi infatti c'è anche una scena dove ci sono questi camion camion della polizia che prendono questi migranti che dovrebbe far ricordare i camion dei nazisti che pigliano dalla strada gli ebrei e li portavano nei campi di concentramento secondo me è un po' forzata come cosa cioè è un po' cioè sembra voler mettere lo spettatore in una situazione di vedi cioè questa è la stessa cosa quindi ti devi toccare ok? no secondo me non è la stessa cosa voglio dire stiamo parlando di quello che è successo in passato che è stato uno sterminio di massa organizzato a mente fredda e non può essere secondo me paragonato con la situazione di ora di cioè voglio dire della situazione degli immigrati clandestini di adesso e non è il parallelismo giusto cioè non è un pochino è un pochino forzato un'altra cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è stata la citazione iniziale ovvero noi all'inizio vediamo Momo che druba dei candelabri no? druba dei candelabri ha la stessa madame Rosà che ancora non conosce che è al mercato e sta cercando di vendere le cliente insomma e e cosa succede? questa questo furto di candelabri è palesemente una citazione alla storia dei miserabili no? quando Jean Valjean va dal prete che lo accoglie in casa e lui che non ha niente che non sa che cosa fare gli ruba questi candelabri viene poi appunto scoperto eccetera e il prete però non lo condanna anzi dice no glielo ho regalati io no? ok? e quindi è una figura un po' di salvezza per questo povero uomo che ha perso completamente la strada non sa più che cosa fare no? e quindi vuole essere un po' la stessa cosa no? cioè fare intuire che Momo rappresenta sostanzialmente le Jean Valjean che conosce solo quel modo di fare che cerca di rubare per per farsi una vita e quindi di conseguenza madame Rosà sarebbe il prete che con insomma con la sua bontà d'animo cerca cercherà poi di salvarlo di metterlo sulla retta via anche qua mi sembra un po' un voler fare i colti a sproposito però tra l'altro tutto ciò viene ancora peggiorato dal fatto che successivamente nel film quando Momo è dal tipo dei tappeti lui a un certo punto gli fa una citazione dei miserabili e gli dà il libro sostanzialmente come dire tieni non conosci i miserabili ma come eccetera eccetera e lui lo butta via eccetera eccetera ma quindi perché cosa c'entra in quel momento la cosa dei miserabili nulla non puoi dare essendo un film francese posso capire che magari per i francesi è un pezzo di letteratura molto più noto nel senso molto più abbordabile in Italia magari per un bambino di 12 anni mi sembra un po' strano dargli così in mano il testo dei miserabili quando c'è probabilmente anche un ragazzo del liceo si mette proprio a leggerlo ok e quindi sembra veramente fatta solo per avete colto la citazione di prima che era dei miserabili quanto siamo intelligenti no 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 da solo fastidio cioè ero tipo vabbè ok ho capito nel senso non sono stupida va bene poi per carità in realtà ci sono alcune scene interessanti insomma dove ti creano una bella atmosfera ci sono state alcune scene che hanno creato una bella atmosfera che ero lì a guardarle insomma vabbè carine no per esempio quelle in cui ci sono madame rosat e lola che stanno ballando nel salotto e ci sono proprio delle inquadrature molto belle con il sole dietro al finestra e loro spensierate che ballano e si divertono e quelle hanno creato proprio una bella atmosfera oppure la scena dove madame rosat che comincia appunto ad avere i suoi attacchi in cui si blocca e non capisce più niente come è trasportata all'epoca dell'epoca della privata nanzista in cui lei è sul terrazzo mentre stava ritirando i panni perché stava venendo a piovere e si blocca si ferma e è su questa sedia ferma il mobile in mezzo al terrazzo con tutta la pioggia che le cade addosso e ci sono i due ragazzi Momo e l'altro ragazzino che tiene in custodia che cercano insomma di farla in qualche modo svegliare facendo anche un po' gli scemi e quella anche è una scena insomma comunque interessante il problema è che queste scene sono veramente sporadiche cioè per tutto il tempo è un vabbè ho capito andiamo avanti il problema di questo film è che veramente sembra che tutta l'impalcatura si regga solo sulla Loren però il problema è che non cioè non può da sola dare luce a una stanza completamente buia e quindi purtroppo il film va molto a perdersi belle interpretazioni ma mancava tutta tutta la sostanza molti di voi a questo punto si staranno chiedendo ma però voglio dire ci hanno fatto anche un film precedente un libro molto famoso tra l'altro ma è veramente possibile che ne venga fuori un film così ciofeca e adesso vi parlerò anche del vecchio film perché io mi sono fatta esattamente le stesse domande e mi sono andata a vedere il film vecchio che tra l'altro si trova su youtube in francese però ci sono anche dei sottotitoli in inglese e vi linkerò ve lo linkerò qua sotto perché perché è molto molto bello e consiglio a tutti quanti di guardarlo li ho visti nello stesso giorno li ho visti ieri li ho visti la mattina quello della loren il pomeriggio ho visto quello del 1977 e vi giuro che uno dei due mi è rimasto nel cuore e non è quello del 2020 nel 1977 infatti è stata fatta la prima trasposizione cinematografica di questo libro che si chiama appunto La Vie de Vainçois che è un vogliamo ricordare un film francese quindi tutto ambientato nella Francia ma tra l'altro vecchia Francia dell'epoca del libro ovvero parliamo del 1975 tra l'altro per chi non lo sapesse Romain Garry in realtà pubblicò questo libro sotto falso nome e la cosa non venne scoperta fino a dopo la sua morte morte che avvenne per suicidio tra l'altro pochi anni dopo mi sa della pubblicazione il film di cui la regia e la sceneggiatura furono fatti da Moshe Misrahi perdonate la pronuncia non so bene come si pronunci vinse anche alcuni premi nel 1978 vinse l'Oscar come miglior film straniero e l'attrice che interpreta Madame Rosat spettacolare veramente spettacolare l'attrice Simone Signoret anche lei vinse numerosi premi per questa sua interpretazione i premi Cesar come miglior attrice protagonista e il David di Donatello come miglior attrice straniera allora il film del 77 è un capolavoro è veramente bellissimo è molto molto fedele al libro nonostante abbia letto che comunque è un po' meno crudo del libro ma comunque anche il film cioè non non c'entra niente con quello del 2020 ha proprio un'altra atmosfera un'atmosfera molto alla francese se si può dire e si vede si vede che è tratto da un romanzo e ha questa atmosfera un po' tra il ironico in certe situazioni che ti fanno anche ridere ma che ti fanno anche piangere cioè perché poi ci sono delle cose drammatiche assurde e la bellezza di questo film è poi come tutto viene trattato ma perché come nel 2020 anche qua il protagonista è Momo che è in realtà questo ragazzo che viene affidato alle cure di Madame Rosat che è appunto una prostituta eccetera eccetera vivono in Francia nella vallia francese in questo quartiere multietnico e praticamente Madame Rosat in questo film è un cioè sembra quasi una nutrice nel senso che ha questa casa ma piena di bambini no? perché all'epoca la legge francese non permetteva alle prostitute di allevare i propri figli no? quindi essendo lei un'ex prostituta e voglio dire dovendo finire a una certa età questo tipo di lavoro poi per continuare a guadagnarsi da vivere decide di prendersi tutti questi bambini e creare cioè una specie di orfanotrofio perché sono tantissimi questi bambini sia appunto dalle prostitute che non potevano vazarli sia in realtà da magari appunto immigrati che non avevano i documenti o persone che avevano problemi insomma a tenere i bambini eccetera eccetera no? e quindi cosa succede? lei prende questo bambino che è appunto Momo ma da piccolo cioè quando aveva 4 anni e il loro rapporto cresce col tempo matura Momo arriva ad essere un ragazzo di 12 anni in realtà 14 ma vabbè questo poi si capirà meglio e lui vive insieme a questa donna e si capiscono ma questo rapporto non si crea dal nulla cioè è un insomma vivono insieme questa situazione per tanti anni e lui prova un legame fortissimo per questa per questa donna che lo ha cresciuto cioè lo ha cresciuto come fosse la nonna la mamma forse più la nonna tra l'altro lui al contrario che nella versione del 2020 in cui insomma lui sa già che cosa era successo che cosa era successo i suoi genitori che non li potremmo di più rivedere invece nella versione del 77 è molto più forse dire drammatica la cosa nel senso che lui in realtà non sa che cosa sia successo ai suoi genitori lui è semplicemente stato affidato a questa madame rosà e essendo tutti gli altri bambini intorno a lui figli di prostitute comunque queste prostitute sono ancora vive voglio dire mandano i soldi vanno a trovare i figli quindi c'è proprio questa cosa delle mamme che vanno a trovare i bambini e sua mamma non arriva mai no? però lui non sa come mai quindi per tutta la vita continua ad aspettare questa mamma che arrivi ma neanche a portarlo via ma semplicemente a salutarlo capito? però non arriva anche perché poi insomma si scoprirà si scoprirà come mai questo film ha un'atmosfera completamente diversa è molto più crudo però anche dolce sembra quasi poetico in alcuni punti e soprattutto il fascino di questo film è che è veramente raccontato con gli occhi ma gli occhi sinceri di un bambino che tutta la sua vita la passa in questo quartiere povero multi-etico quindi anche un po' emarginato della società e questo mondo lui lo giudica con gli occhi innocenti di un bambino piccolo che forse in realtà tanto piccolo non è perché Momo è come se fosse un bambino costretto ad essere grande troppo presto proprio il classico bambino che deve diventare già adulto e per tutto il film noi lo sentiamo anche raccontare e a volte dalle sue parole nascono anche riflessioni su tematiche molto importanti cioè le grandi tematiche della vita praticamente come la corsa alla felicità per esempio che dice la felicità è così poca nel mondo perché vedo tutti affannarsi continuamente per cercare di trovarla oppure per esempio molto bello è il discorso che fa con il dottore nel momento in cui Madame Rosat comincia ad avere sempre più attacchi sempre meno momenti coscienti e il dottore prende da parte Momo che l'ultimo insomma l'ultimo bambino rimasto a vivere con Madame Rosat lo prende da parte e dice guarda dobbiamo mandarla in ospedale perché appunto così non può più andare avanti e Momo che aveva già parlato con Madame Rosat e lei l'aveva pregato di fare di tutto pur di non mandarla in ospedale perché evidentemente nell'epoca nazista insomma che facevano anche esperimenti sugli ebrei eccetera probabilmente ha vissuto chissà che atrocità e appunto lei non ne vuole sapere di andare in ospedale di tornare sotto i bisturi le cose insomma non vuole dare più il suo corpo via che già l'ha dovuto dare abbastanza sia nell'epoca nazista sia poi quando ha dovuto arrangiarsi facendo la prostituta basta non vuole più dare via il suo corpo non ne vuole sapere di andare in ospedale e lo prega di piuttosto mettere un cuscino sulla faccia e farla morire in questa scena il dottore e Momo parlano e Momo gli dice ma perché cioè lei non ci vuole andare in ospedale piuttosto non sarebbe meglio farla morire e il dottore ovviamente è scantarizzato ma cosa stai dicendo ma ma non non è l'eutanasia ma cosa che non si fa non si pratica è vietata ma non sai che cosa stai dicendo eccetera eccetera e Momo continua chiedendo ma ma come mai cioè come mai l'aborto viene consentito quando si è giovani eppure quando si è vecchi basta non si può più disporre della propria volontà della propria vita e del proprio corpo se noi tutti abbiamo il libero arbitrio sul nostro corpo perché non dovremmo avere il potere di decidere fino all'ultimo di decidere che cosa fare di noi che cosa fare del nostro corpo e vi giuro che in questa discussione tra i due è il medico quello che non sa veramente che cosa dire cioè che non ha non ha acqua il suo mulino non ha argomentazioni valide da esporre a Momo che dice tutto in modo così limpido cristallino come se fosse tutto tutto logico tutto segue un filone logico chiarissimo e il medico le uniche cose che gli sa dire è che è una cosa vietata e che non si può fare ma non riesce a dare davvero delle argomentazioni valide e Momo continuerà a restare di quest'idea tra l'altro questo è interessante perché è una tematica molto particolare da affrontare cioè già oggi è un po' più normalizzata però comunque stiamo parlando di un libro scritto nel 75 quindi cioè era una situazione molto diversa ecco quindi insomma tanto di cappello perché davvero viene affrontato in modo così fresco e chiaro che sembra davvero scritto ai giorni nostri ci sono anche altre scene molto belle ora appunto vabbè non voglio dilungarmi troppo però ecco ci sono proprio delle piccole cose le piccole cose che ti fanno entrare nel mondo di questo bambino che si ritrova nel mondo degli adulti forse anche troppo presto come può essere proprio all'inizio in realtà c'è una scena in cui lui vuole un cane vuole avere disperatamente un cane e va in questo negozio e praticamente ruba questo cagnolino e lo ama tantissimo cioè diventa il suo miglior amico no? praticamente però si rende conto che in realtà se questo cagnolino restasse davvero con lui vivrebbe un po' la sua stessa sorte no? e lui è così maturo da capire che che non vuole più questo cagnolino la sua stessa vita no? e quindi cosa fa? lo dà a una signora una ragazza che ricca che potrà tenerlo che potrà curarlo e glielo vende così che lui possa avere una vita migliore e questi soldi li prende e li butta nel tombino cioè ragazzi quanto quanto è? quanto è profonda questa scena cioè questo bambino che che dà via il cagnolino e poi non gli vuole questi soldi che gli hanno dato per il suo cane perché non non li vuole non gli interessano bellissimo veramente belle come questa ci sono un sacco di altre scene veramente toccanti cioè mi stai funzionando adesso sono a raccontarle anche nel finale in cui lui nasconde madame rosà nel nel seminterrato e resta con lei per giorni nel film del 2020 quasi stona un po' quella parte se devo essere sincera perché è un po' insomma non c'entra molto con tutta la favola che era stata presentata all'inizio e invece in questo film del 77 dove comunque in generale è appunto anche crudo a tratti no? lui che cosa fa? lui la tiene l'essere interrato e quando lei muore passano settimane prima che lo ritrovino lo trovano vicini dall'odore perché? perché gli dici io continuavo a comprare il profumo il profumo perché non volevo che gli altri se ne accorgessero volevo stare con lei e però a un certo punto è finito tutto il profumo che stavo usando e quindi sono arrivati e l'hanno trovato cioè ah mania mania che bello che bello veramente bello purtroppo non c'entra proprio niente il film del 2020 la sceneggiatura è stata completamente completamente iscritta ormai c'è c'è praticamente solo il nome di personaggi che è uguale e un po' la loro relazione però anche lì è comunque molto stata stravolta è anche il rapporto che ha Momo con il venditore di tappeti in realtà nell'originale non è così a caso nel senso il venditore di tappeti è un musulmano ma quindi madame Rosà dato che non lo può mandare a scuola lo manda da questo venditore di tappeti che ce li fa un po' da maestro insegna tutte le cose del mondo anche il loro rapporto è molto diverso e anche lì dura negli anni non è nell'arco di una settimana che si svolge questa vicenda insomma purtroppo mi viene da pensare se avessero tenuto la sceneggiatura originale o comunque fossero state un po' più fedeli al libro chissà che film sarebbe stato con una grande interprete come la Sofia Loren mi dispiace mi dispiace veramente tanto perché la storia ce l'aveva tutto il potenziale tutto quanto però è stata forzata forse in questo in questo stampino moderno di temi moderni che richiamano l'attenzione dello spettatore di oggi però che con questa storia in realtà non diventano cioè non sono una cosa veramente importante ma lo sono le relazioni tra le persone il loro amore la loro psicologia la loro maturazione che secondo me in questo film del 2020 vengono proprio messi da parte ed è un peccato veramente un peccato io vi consiglio tantissimo la visione del film del 1977 come dicevo prima si può anche trovare su youtube in francese però ci sono i sottotitoli in inglese è un film vecchio lo so può non piacere a tutti ma tra l'altro neanche così vecchio nel senso che è girato con degli strumenti che sembrano molto molto vecchi no? nel senso che si sente sempre il brusio di sottofondo gli ambienti sono pochi sono scarni eccetera però in realtà pensandoci non è neanche così tanto vecchio probabilmente questo modo di girare e questi attrezzi che sono stati usati forse sono stati usati di proposito per rendere appieno l'atmosfera del film e fosse così veramente tanto di cappello cioè come fare un bel film come fare davvero una bella regia cioè tornare indietro nonostante magari si avessero dei mezzi più moderni microfoni migliori però come tutto questo in realtà abbia il suo scopo cioè ci faccia entrare ancora di più nella povertà di questa situazione cioè questo è veramente un modo intelligente di come fare una regia e di come utilizzare i materiali cosa che secondo me non è stata fatta per esempio nel 2020 nel senso che non so a un certo punto c'è addirittura una leonessa in CGI che veramente sembra usata messa lì solo per dire ah ce l'abbiamo anche nella tecnologia ah però fa schifo vabbè non ci entramo cioè nel senso potevano renderla in un altro modo sicuramente piuttosto che fare una leonessa in un mezzo CGI un po' così che poi compare tipo in due scene cioè non lo so comunque insomma consigliatissime film del 1977 molto meno consigliato purtroppo quello del 2020 nonostante la adoratissima Sofia Loren sia anche qua super brava eccetera eccetera ma come dicevo prima purtroppo non può lei da sola fare tutto il lavoro spero che questa recensione vi sia piaciuta spero di non essere stata troppo cattiva me ne rendo conto ci metto anche molta enfasi quando una cosa non mi piace oppure mi piace tantissimo quindi magari possa sembrare anche un po' esagerata non sto dicendo che è un film terribile schifoso oh mio dio non può esistere sulla faccia della terra però ecco purtroppo ha preso un po' le cose negative diciamo da un libro che invece è stato fatto molto bene fatemi sapere nei commenti cosa pensate se siete d'accordo con me o se invece il film vi è piaciuto tantissimo fatemi sapere soprattutto se guardate la versione del 77 che sono molto curiosa ovviamente se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e è nulla noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao